Per migliorare un po' la mia vita e poi anche soprattutto era per curiosità, perché parlavano dell'Europa, l'Europa, l'Europa e poi quelli che anche tornavano venivano, li vedevamo bene e allora anche uno dice perché anche io non ci vado a provare un po' è quello che ci ha spinto anche un po' e che ci spinge ancora, ancora tanti ragazzi, tanti giovani a voler uscire proprio.